L'indizio Ti faccio un gioco ora invece che si chiama l'indizio L'indizio te sai, lo saprai, che è qualcosa che ci aiuta ad arrivare alla soluzione di un problema Ora, diciamo che io non ho problemi particolari, oddio, ce ne ho parecchi Però non in questo momento, in questo gioco qui Però me ne voglio creare uno E ti voglio far pescare una carta, quella che vuoi Ma perché non mi rendi quella? Io questa non mi prendo quella Ma perché sì? Allora prendi quella che vuoi Ma è quella mia da odio Quella che vuoi Dai, prendi quella che ti pare Guardala, mostra la telecamera Con una vidaluia Sì Una vidaluia Vai, ci sei? Adesso, ti ricordi come si chiama il gioco? L'indizio 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 Ora, perché il gioco venga io ho bisogno di un indizio L'indizio di cui ho bisogno è particolare Cioè, riguarda la tua carta Perché se io non avesse indizio La tua carta non la ritroverei Quello che ti chiedo quindi è di metterla in cima al mazzo E per me questo è un indizio molto importante Perché non so quale sia la tua carta Ma so dov'è Se io facessi questa cosa In realtà non stai facendo niente Perché vedi, prendo un blocchetto da sopra E lo metto su E si Ti svelo un piccolo segreto Anche se facessi questa cosa qui Io non stai facendo niente Perché la tua carta è sempre questa Anche se facessi così Io ci sto mettendo un segno dietro Quindi non fare niente Se io non volessi veramente complicare la vita Allora dovrei fare così E metterla sotto Così e metterla sotto Dimmi un numero fra 1 e 10 4 1, 2, 3, 4 E la metto sotto Dimmi un altro numero 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E la metto sotto Un'altra ancora 1 1 Ora faccio così Guarda Se lo vedi chiaramente 1 Ce ne mettiamo altro Non importa 5 5 Vai, guarda 1, 2, 3, 4, 5 E le mettiamo sotto Eh, sì Adesso io faccio Questo gesto Sopra le carte Sì Vedi come sono malleabili? Sì È come se le carte fluttuassero E passassero una attraverso l'altra Facci vedere Che potere Ed è curioso Perché facendo questo gesto A un certo punto Io sfogliando il mazzo Eh Farò in modo che ne appaia Una Diversa dalle altre Una carta particolare Che ti riconoscerai subito Perché sarà così Differente dalle altre Che non farai Non potrei fare a meno Di notarla Eccola Si sta avvicinando E come mai È voltata Anche questa Come mai Perché? Perché? È un indizio È un indizio Cosa vuol dire? È che c'è scritto qui Che numero è? Due Due Vogliamo raccontare fino a due Uno Due Pronto a girare? Oh no Mamma mia E con me Quella carta Era capovolto Ma che è Esatto La magia forse Fantastico Era Maria Ti voglio fare Troppo Troppo Ti voglio far vedere Ti voglio fare